Il pallavolo Super Lega Cade Maga, semifinale playoff per scudetto, Itas 30. E vincente le Umuru Itas sul Lebre. E vincente le Umuru Itas sul Lebre. Il pallavolo Super Lega, semifinale playoff per scudetto, Itas 30. Il pallavolo Super Lega, semifinale playoff per scudetto, Itas 30. E vincente l'attacco in lungo di mia linea di Rimbio del Fis. Primo set, 27. 25. Itas 30. E vincente l'attacco in lungo di mia linea di Rimbio del Fis. Primo set, 27. Il pallavolo Super Lega, semifinale playoff per scudetto, Itas 30. Lega, semifinale playoff per scudetto, Itas 30. Lega, semifinale playoff per scudetto, Itas 30. E vincente l'attacco in lungo di mia linea di Rimbio del Fis. Il pallavolo Super Lega, semifinale playoff per scudetto, Itas 30. Il pallavolo Super Lega, semifinale playoff per scudetto, Itas 30. Il pallavolo Super Lega, semifinale playoff per scudetto, Itas 30. Il pallavolo Super Lega, semifinale playoff per scudetto, Itas 31. Il numero del capitano, verso posto 2, mette giù Camille. Il servizio vincente, lo mette il capitano. Il servizio vincente, il capitano Luca del… Il numero del capitano, il capitano. Il numero del capitano. Il numero vincente. Il capitano. Il capitano. Mimiro dal 4 Mimiro dal 4 Mania del capitano Chiude Gara Gara